Dottor Qualieri, un nuovo importante incarico in sostituzione dell'assessore Liris di Missionario, delle che molto importanti, molto pesanti? È un percorso in crescita, un percorso che vede un nuovo traguardo e soprattutto aumenta il lavoro per tutto l'Abruzzo, perché il mio impegno sarà per tutto l'Abruzzo, con un'esperienza che viene da quattro anni di legislativo, quindi che bisogna associare un'esperienza legislativa a una parte gestionale che non guasta. Quali le priorità secondo lei in questo momento? Le priorità innanzitutto dovrò ereditare il tanto lavoro seminato e in itinere e quindi aspettiamo il passaggio di consegne che avremo sentito già a Guido che ci incontriamo nei prossimi giorni, in maniera che ci sarà una continuazione del lavoro ben fatto fino adesso.